Diovedì 23 marzo, ovviamente tutti quanti i giornali si occupano della vicenda di Londra, l'abbiamo fatto anche noi ieri sera a Matrix, molti di voi ci hanno ascoltato e ci hanno visto, insomma vi ringrazio per quanti eravate ieri sera. Il punto fondamentale è che la cronaca ve la siete letta sui siti internet Immagino e nelle ricostruzioni televisive, ad esempio Matrix, come abbiamo fatto noi ieri sera, quindi tutti quanti voi ormai sapete cosa è successo, è inutile riparlarne, i giornali ovviamente però lo riportano, quindi ci sono paginate e paginate nel raccontare la cronaca di una cosa che temo che purtroppo molti di ieri o stamattina già conoscessero, quindi questo è il famoso dilemma del giornalista della carta stampata, che cosa facciamo? Ripetiamo quello che tutti gli altri sanno e evitiamo di raccontare la cronaca che tra l'altro è intrigante su quello che è avvenuto, insomma non è facile oggi occuparsi della carta stampata quando la rete, la televisione, le agenzie, Twitter e tutto ti hanno già superato. Ieri abbiamo cercato di dare un tono un po' diverso e oggi non l'ho trovato sui giornali, ci sono due questioni di ieri che mi hanno appassionato e cioè l'Europa come in Israele, Barbara Pontecorpe è una israelizzazione dell'Europa, i coltelli, gli attentati sporchi, ha dato dei numeri molto interessanti e l'altra cosa è l'atteggiamento del sindaco di Londra, per cui è nata anche una piccola polemica ieri sera in studio, che oggi non ho trovato sui giornali, che ha detto che si trattava di un incidente ed è stato attento, molto prudente, nel parlare di terrorismo. Ecco, oggi sera in un bellissimo fondo che condivido molto, Pierluigi Battista dice abbiamo chiuso gli occhi, cerchiamo di non vedere, e cioè non raccontiamo quello che sta avvenendo con le parole giuste. In realtà quello di ieri era un attentato terroristico, si era capito subito, Scott Langyard lo diceva, ma cercare di dare una connotazione diversa, isolati, pazzi, mentalmente disabili, si commettono degli errori, questo è il terrorismo e P.G. Battista oggi lo scrive, secondo me, molto bene sul Corriere della Sera. Un pochino laterale rispetto a questa vicenda, ma molto centrato, è invece il fondo che fa Alessandro Sallusti sul giornale. Alessandro Sallusti sul giornale mette insieme due cose, la prima riguarda il Presidente dell'Eurogruppo, voi sapete che il Presidente dell'Eurogruppo è il Presidente di quell'ordano consultivo che riunisce 19 ministri dell'economia che hanno adottato l'euro, quindi una roba molto importante. Il Presidente dell'Eurogruppo, un olandese, di cui mi dimentico sempre il nome, dice che i paesi del sud dell'Europa, mentre quelli del nord gli prestano i soldi, li bevono e vanno con le donne. A parte il fatto che bere, non so se è proprio una caratteristica dei paesi del sud, ma direi più di quella che è rappresentata dal premio olandese, se vogliamo usare i luoghi comuni. E Sallusti dice, vedete, mentre l'Europa è così divisa, italiani contro tedeschi, olandesi contro sud, francesi che litigano con i belgi, insomma, mentre tutto questo sta avvenendo, cioè mentre l'Europa si divide e semmai è contenta e controlla soltanto i conti, non si rende conto di una cosa fondamentale, cioè che non si può essere divisi contro l'Isis, che è la vera battaglia che l'Europa dovrebbe combattere oggi e che non sta combattendo. Quindi utilizza questa arma retorica, cioè di utilizzare il Presidente dell'Eurogruppo, che è il gruppo addirittura più ristretto dell'Unione Europea, quella di 19 con l'Euro, dicendo facciamo tante polemiche tra di noi, non rendendoci conto che il tempo ci ammazza, come è successo ieri a Londra. Nel frattempo cosa facciamo sul fronte dell'immigrazione, che è l'altro secondo grande tema di oggi che non abbiamo sviluppato sui giornali perché c'è l'attentato di audizione di Carmelo Zuccaro, il procuratore di Catania che sta indagando su queste ONG che vanno a prendere, come abbiamo fatto vedere ieri sera, come abbiamo fatto vedere con il nostro blogger Luca, abbiamo fatto vedere come queste ONG in realtà vanno sulle coste della Libia a più che soccorrere, a traghettare, come dicono alcuni, i profughi dalla Libia all'Italia. Insomma, devo dire la verità che il procuratore, che è un procuratore evidentemente che sta indagando da tempo su quello, dice che c'è addirittura una possibile complicità tra chi fa partire i profughi e chi li accoglie. Non è che lo dice un leghista, lo dice un procuratore siciliano che sta indagando. Bene, e da chi sono finanziate queste ONG? E perché vanno a prendere questi derelitti sulle coste libiche? Insomma, queste sono questioni di cui il procuratore, vogliamo di capire meglio anche noi con... Un'altra cosa che è incredibile e che vi voglio segnalare è, sul Corriere della Sera di oggi, l'avevamo fatto, guarda come vedo che abbiamo dei problemi di connessione, è la retratezza dei lavori per il G7 di Tormina che si trarerà fra due mesi. Cioè fra due mesi tutti i grandi capi di Stato e che c'è un ricorso perso davanti al Tar e vinto davanti al Consiglio di Stato per un appalto che dovrebbe dare i badge ai 20.000 partecipanti al G8 di Tormina. Io non ci posso credere. Cioè questo è un paese in cui ricorsi, non ricorsi, contratti, appalti, consip, non riusciamo neanche a organizzare l'incontro tra i sette capi di Stato e siamo anche là a sbagliare le procedure e a vivere in un paese di carte bollate. Va bene, anche lo Stato che vorrebbe fare il fighetto vive in un momento di carte bollate. Ecco, il G7 di Tormina rappresenta l'Italia, un'Italia fallita, per cui non riusciamo neanche a fare un appalto grosso, sono 600.000 euro ma niente rispetto a quello che ha come peso politico per i grandi capi di Stato. E' evidente che poi dopo uno se vuole ragionare su queste cose dice ma che servono questi incontri, guardatevi in un albergo e non facciamo tutto sto casino. Va bene, io sono anche di questa idea, ma una volta che decidi di farlo non ci posso credere che cadiamo sul Consiglio di Stato. Grande casino ieri alla Camera sui vitalizi, il Movimento 5 Stelle ha cercato di occupare la presidenza, insomma atteggiamenti, come dice D'Ambruso, l'ha detto ieri sera, violenti da parte del Movimento 5 Stelle, il Movimento 5 Stelle dice che invece è violenza di Stato, cioè quella di non abdicare, di non tagliare i vitalizi come chiedono loro. La questione meriterebbe molti minuti, non ho voglia di farlo, ma la cosa che vi devo dire è che è molto bella l'intervista oggi fatta da Bomba 6 sul giornale in cui dice quello dei Movimento 5 Stelle è un populismo molto forte, ma attenzione non bisogna prenderlo sotto gamba, nel senso che bisogna dialogarci, capire cosa vogliono, cercare di smontargli le loro tesi. Secondo me la tesi dell'imprenditore Bomba 6, prestato alla politica, comunque non è male. Devo dire che solo due giornali tra i tanti non titolano su Londra, uno è La Verità di Belpietro, che titola sulla notizia che gli altri giornali danno in piccolo, che non è male, Profumo, neonominato amministratore delegato di Finmeccanica che ha fatto le scarpe a Moretti, che ha lasciato Finmeccanica perché condannato in primo grado per la strada di Viareggio, beh, Profumo è stato rinviato a giudizio per usura, mi sembra che sia una causa di un elettricista del Sud che lo ha denunciato e il PM lo ha rinviato a giudizio, il giudice l'ha rinviato a giudizio per un caso di usura attribuibile all'avvisatore delegato in quel caso, al presidente in quel caso del Monte dei Paschi di Siena. È una storia minima, però io capisco la tesi di Belpietro. Il banchiere che deve fare Finmeccanica, il banchiere ex Unicredit, ex Monte dei Paschi di Siena, sostituisce quello perché è condannato in primo grado e vai a vedere che anche lui è sotto processo. Questo è piuttosto suggestivo in un paese in cui i banchieri vengono certamente odiati quasi quanto i politici. È libero, invece, titola sulla Turchia, che sarebbe, secondo il giornale di Feltri, che mette soltanto in una foto a notizia la questione londinese, la Turchia il vero rischio dell'Europa e della sua deriva. Non vanno questi collegamenti e noi ci vediamo domani o anche più tardi con la zuppa di horror. Ciao!